Domani torno di nuovo a Jump City. Cosa? Perché non ce l'hai detto prima? Perché vi comportate da folli quando provate a farmi restare. No, non è affatto vero. Sul serio. D'accordo, probabilmente ci comportiamo in modo strano, ma lo facciamo solo perché ci piace tanto averti qui in mozzo a noi. Lo so, ma sono diventato grande ormai e devo vivere la mia vita da adulto. Va bene, se vuoi andartene domani ti promettiamo che stavolta non tenteremo di fermarti. Dite sul serio? Sì, ovvio, certo. Ti vogliamo bene, fratello, e vogliamo che tu sia davvero molto felice. Oh, ragazzi, anch'io vi voglio bene. Vieni qui, fatti abbracciare forte. Ora! Pensavo che ci cascasse. Ascoltate, io partirò domani. Qualunque cosa abbiate pianificato, levatevela dalla mente, perché non funzionerà. Questo è ancora tutto da vedere. Baby, come regalo di addio ti ho preparato questi strani biscotti vegani che ti piacciono tanto. Oh, forte! Sono i biscotti fatti con i fagioli. Ehi, Robot Man, forza, assaggiane uno tu. No, aspetta! Ok. La consistenza è ottima, è soltanto leggermente insolubile. Sapevo che avevi messo qualcosa nei biscotti, cocca! Fregata! Ok, ci siamo! Pronto a colpirlo! Farò lo spacca-spacca della sua caviglia-caviglina e non andrà da nessuna parte! Bella! Preso! Molto bene! Adesso questo cucciolo non andrà da nessuna parte! Ehi! Cosa? Cosa? Brutte notizie, ragazzo! Finché non cambierai idea sulla partenza, isoleremo completamente la casa! Nessuno può entrare e nessuno può uscire da qui! Ah, sì? Non vorrei farlo! Invece sì! Faccio uscire! Faccio uscire! Mi aspetta un viaggio davvero lungo domani! Adesso devo andare a riposarmi! Notte, ragazzi! Notte!